E' finito ragazzi, è finito, a mio modo di vedere, il secondo big match dell'anno dopo Lazio-Napoli, Juventus-Lazio. All'altro gli hanno messi tutti adesso i big match, gli hanno messi tutti adesso, grandissima vittoria della Juventus, importantissima vittoria della Juventus. La Juventus che quindi porta a casa tre punti fondamentali, a mio modo di vedere, perché è vero che comunque in casa contro Lazio ci sta che tu vinci, però ricordiamo l'anno scorso quando la Juventus tre volte ha affrontato la Lazio, una volta in Supercoppa ed ha perso, una volta in campionato in casa e ha perso, una volta in campionato fuori casa e ha vinto al 94esimo praticamente. Lì poi da lì nacque la crisi del Napoli, il Napoli che la sera per quel gol perse, cioè probabilmente per quel gol che fu un casino assurdo. Dio hanno segnato all'ultimo che palle, noi che ci speravamo, perse 4-2 con la Roma e da lì in casa e da lì in poi insomma il Napoli perse lo scudetto. La Juventus che quindi va a, io vi ricordo innanzitutto come sempre, mi piace qua sotto, stasera vuoi del post partita di Napoli-Milan, mi piace qua sotto, mi piace qua sotto, mi piace qua sotto, io vi ricordo come sempre del VAR, perché poi qualcuno mi dirà, ma il VAR e il non VAR, tanto c'è sempre qualcosa da parlare. Ne parliamo nel chiacchiere da VAR, ne parliamo nel chiacchiere da VAR, quindi mi raccomando, mi raccomando ne parliamo nel chiacchiere da VAR. Che vi stavo a dire? La Juventus che va a 6 punti, quindi insomma resta prima, poi staremo a vedere chi raggiungerà la Juventus a 6 punti, la Lazio che sta a 0, ora ci sta che perdi due, cioè tu perdi due partite contro Napoli e Juventus, alle prime due sono più forti di te, ci sta. Però insomma un po' di rammarico ci sarà. Juventus è brava che gioca con tutti, tutti, tutti i titolari. Sono curioso, al di là di oggi che poi insomma il minutaggio è stato quello che è stato, sono curioso di vedere Dybala-Cristiano Ronaldo vicini, voglio vedere proprio allegri come li farà giocare vicini, perché? Perché ragazzi secondo me questa sarà proprio la svolta stagionale. Se Allegri riuscirà a far giocare con costanza Dybala-Cristiano Ronaldo vicini, beh secondo me la Juventus potrebbe davvero essere la favorita numero 1 per la vittoria alla Champions League. Più che altro quello che dico io, perché ve l'ho detto anche settimana scorsa, lo vedevamo con il Chievo, no? Quando praticamente erano due davanti, due davanti che però non possono fare le stesse posizioni, quindi ovviamente c'è i stessi movimenti. Quindi Allegri ha chiesto a uno e all'altro di allargarsi a turno per non contrastare l'altro. Qual era il problema però? Che quando Dybala si allargava e Cristiano Ronaldo rimaneva centrale, Dybala non riusciva a dare il pallone a Ronaldo, perché la distanza era elevata e ovviamente ci si smettevano dei giocatori di mezzo, poi a Ronaldo ogni volta gli andavano in raddoppio e ci sta settimana scorsa. Ugualmente quando poi Cristiano Ronaldo si allargava e non riusciva a dare il pallone a Dybala, capite bene ragazzi che poi il problema lì si era posto. Io ovviamente penso che Allegri non è che stia dicendo, eh però adesso che faccio, metto Dybala o metto Ronaldo, no quello è una frega, e vai, starà dicendo, e vai, ho Dybala e Ronaldo e posso scegliere, starà godendo comunque, ne starà facendo il trenino da qualche parte. Però diciamo che secondo me, vi ribadisco, qualora Allegri riuscisse a far, diciamo collaborare, a far giocare insieme sia Dybala che Cristiano Ronaldo, probabilmente avremo la favorita numero uno per la vittoria finale in Champions League. La Lazio che fino a che è stata in partita, diciamo la verità, non è che mi ha fatto schifo, anzi comunque perché ha giocato stretta, se è salita bene, se è coperta comunque molto molto bene, più che altro il discorso è, non capisco se la Lazio ha dei problemi interni, non per la partita, fate attenzione perché, oh, perdeva, io invece sta, perdeva, il Napoli ci sta assolutamente, anzi insomma, poi abbiamo visto il Napoli, grande partita, cioè comunque alla fine la Lazio non gli esceva di niente, però una volta esce fuori della curva, del problema delle donne, una volta esce fuori dello dito che chiama Inzaghi, diciamo, si mua rotti i coglioni, ma diciamo che comunque qualche problema esce fuori, assolutamente, non mi sembra, non mi sembra, insomma, che possa far bene alla squadra. Detto questo, ti invito a lasciare un mi piace qua sotto, se il video ti è piaciuto, ti ricordo che stasera farò il post partita di Napoli-Milan, quindi se lasciate un sacco di cose qui sotto, questo gli uscirà, ti invito come sempre ad iscriverti al canale, mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, se il video ti è piaciuto, mi piace, ne ha saluto un dislike, buoncela lala e noi come sempre, ci vediamo in un prossimo video.